L'ISIS a Palermo c'era già. Nel dopoguerra si scatena la guerra totale ai monumenti, ai quartieri storici e così via, ai capolavori. Guerra totale. Io ricorderò che Lucio Piccolo, il grande poeta, con la sua famiglia lasciò via Libertà dove avevano una stupenda casa perché sentivano enormi masse di metallo che percuotevano i villini liberti della nostra città e li abbattevano spietatamente. La città dove era in tutto questo? Rideva, si divertiva, faceva quattrini con la peggiore umanità di quel tempo, la mafia collegata al potere politico. Qualcuno ha protestato? Non mi risulta. Io ricorderò che Villino Florio fu bruciato dai proprietari, non fu bruciato dalla Totorrina, fu bruciato dai proprietari per farne spazio di edilizia e quindi di facile arricchimento. Quindi tutto questo purtroppo ha creato un tessuto che si ripete all'infinito e che coinvolge sia la destra che in parte anche la sinistra. Non c'è speranza? Io credo di sì. Però ha una condizione e la condizione fondamentale è questa, che si esca fuori dall'idea di tribù e di clan. Quella città è abituata a vivere nel sottobosco, se preferita nell'ombra. È una città di una cultura strepitosa, diffusa, che è la cosa più importante. Mentre a Torino, Milano, ci sono 4, 5, 6 artisti, qui c'è un'artisticità estremamente diffusa, una capacità intellettuale straordinaria. Però non hanno la forza di parlare, di raccontare che cosa vivono sulla loro pelle continuamente.